Il Super Green Pass divide i consiglieri per il presidente dell'Assemblea Mazzeo è essenziale per tutelare la salute di tutti. Approvato dal Consiglio regionale l'adeguamento normativo che interviene sulle leggi che riguardano il governo del territorio e la proroga dei termini degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A Montespertoli dal 26 al 28 novembre l'olio protagonista la rassegna Olea. Fino al 9 gennaio a Cortona Mercatini la casa di Babbo Natale, concetti, spettacoli itineranti e una pista per il pattinaggio sul viaggio. Il Super Green Pass divide. Sono orgoglioso di quello che ha saputo fare la nostra regione. In questi mesi c'è stata una grande campagna vaccinale che ora ripartirà con più forza per la terza dose, ma richiede ancora uno sforzo da parte di tutti. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo torna sulla situazione della pandemia e rilancia l'appello già fatto nei giorni scorsi perché più di 200.000 toscani non si sono ancora vaccinati. Il presidente condivide totalmente l'idea del Super Green Pass. Ma io la condivido totalmente. Qualche settimana fa ricorderete che dissi esattamente questo, che noi bisognava stringere il Green Pass e il modo gentile per chiedere a tutti di vaccinarsi. Credo però che queste misure importanti e da mettere in campo subito siano l'ultimo step che noi abbiamo a disposizione. Se poi la gentilezza non basta, io credo che a un certo punto sia necessario rendere obbligatoria la vaccinazione perché in gioco c'è la salute di tutti noi, in gioco c'è la vita di tante persone che grazie al vaccino oggi possono essere ancora insieme a noi ed è una risposta che noi diamo anche ai tanti operatori della sanità che vanno ringraziati, che sono in prima linea da un anno e mezzo. Decidere di non vaccinarsi vuol dire decidere di essere egoisti e quando non ci si fa, con la gentilezza, credo che le regole debbano diventare chiare e ognuno debba fare la propria parte. Per il consigliere del PD Enrico Sostegni, tutte le misure che possono spingere le persone verso la vaccinazione sono necessarie. I dati di confronto anche con gli altri paesi europei ci dimostrano come i paesi che hanno una percentuale anche poco più bassa di vaccinazione rispetto a quella italiana sono già in una situazione di assoluta difficoltà. Quindi questo vuol dire che recuperare anche pochi punti e quindi poche migliaia di persone vaccinate può voler dire evitare nuove chiusure e acuitizzarsi della situazione degli ospedali. Quindi intanto le terze dosi velocemente. Oggi la Toscana ha già riaperto alla terza dose dopo cinque mesi e questo è il primo elemento. Dopodiché tutte le misure che portano le persone a decidersi di vaccinarsi sono assolutamente necessarie perché sono quelle che anche se spostano qualche percentuale di vaccinati possono evitare nuove chiusure e difficoltà negli ospedali oltre che le morti. Quindi siamo assolutamente d'accordo. Per Torselli di Fratelli d'Italia il Super Green Pass non è il modo migliore per raggiungere Novax nei confronti dei quali per il consigliere il governo dovrebbe assumersi la responsabilità di istituire l'obbligo vaccinale. Penso che se ad un anno di distanza siamo ancora a parlare di ipotesi di lockdown, di regioni che possono cambiare colore, di limitazioni ai cenoni di Capodanno, di luminarie da accendere una settimana prima per vedere se qualcuno pensa che Natale quest'anno venga il 14 e non il 25, evidentemente qualcosa è andato storto. E questo strumento, questo Green Pass introdotto perché sarebbe dovuto essere la panacea a tutti i mali evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare. Quindi oggi arrivare a parlare di una sua estensione mi sembra un controsenso. Il Green Pass ce l'hanno venduto come uno strumento che sarebbe servito al contenimento della pandemia. In realtà era soltanto un incentivo, un obbligo vaccinale nascosto, un incentivo a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto un numero di cittadini ormai vaccinati in Toscana addirittura l'85%, a livello nazionale un po' sotto l'80%. Chi oggi non si è vaccinato è uno zoccolo duro di cittadini che ormai hanno deciso, scelto, di non vaccinarsi. E se tu, governo nazionale, vuoi arrivare a questo zoccolo duro di ultimi resistenti, è inutile che tu introduca il Super Green Pass. Fai un gesto di coraggio, assumiti le tue responsabilità, caro governo, e introduci l'obbligo vaccinale. Obbligali alla vaccinazione, altrimenti loro non si vaccinano. Per Ulmi della Lega il Green Pass deve essere un mezzo per spingere la vaccinazione, per cui se il Super Green Pass può indirizzare altre persone verso l'immunizzazione, può essere un metodo efficace. Il Green Pass è servito, servirà, per poter permettere alla gente di facilitarne la vaccinazione. Io sono un medico, per cui credo che i vaccini li abbiamo studiati in medicina da sempre e sono un caposaldo della sanità, della medicina stessa, hanno eradicato delle malattie assolutamente che hanno omietuto nei secoli centinaia, migliaia di morti. Per cui benvenga il Green Pass se a un certo momento questo Green Pass può essere il veicolo per una vaccinazione che da sola non è sufficiente, ma che comunque può in qualche modo permettere l'eradicazione o quantomeno l'abbassamento del tasso di contagiosità. Per me il Green Pass è soltanto un mezzo, per cui dobbiamo vaccinarsi. Se deve essere il Super Green Pass la possibilità per vaccinarsi, può andare bene il Super Green Pass. Per Irene Galletti Super Green Pass o obbligo vaccinare devono essere solo un extrema razio. È un provvedimento al quale nessun governo vorrebbe mai arrivare e nemmeno noi lo vogliamo. Voglio ricordare un aspetto, che l'Italia è oggi uno dei paesi nelle migliori condizioni per quanto riguarda la quarta ondata che ha colpito l'Europa e non solo, mentre paesi come la Germania e la Danimarca stanno affrontando un'emergenza veramente grave con terapie intensive piene e soprattutto con un'ondata di morti di nuovo senza precedenti. Quindi quello che secondo me deve essere importante è l'appello che continuo a fare a coloro che hanno ancora dei dubbi sulla vaccinazione, di andare a vaccinarsi, di avere fiducia nella scienza medica che ha portato veramente l'umanità a momenti di benessere veramente notevoli. Quindi l'appello è questo e cerchiamo di essere innanzitutto responsabili per noi stessi, per i nostri cari e per l'intera comunità. È questo il momento in cui dobbiamo dimostrare di essere un Paese unito. L'obbligo vaccinale è l'estrema razio a cui si è dovuto ricorrere anche in passato per delle malattie che oggi sono state debellate, come ad esempio il vaiolo. Quindi credo che non sia un'ipotesi da scartare. Anche questo, inutile dirlo, dovrebbe essere l'ultima razio di una campagna vaccinale che deve arrivare prima di tutto alla mente delle persone per arrivare poi a cercare di convincerli della bontà di questa procedura, dell'utilizzo del siero che in questo momento sta salvando e ha continuato a salvare milioni di vite in tutto il mondo. Risoluto il consigliere Scaramelli, per il quale non è più il momento della tolleranza. Sì, serve una stretta ulteriore. Non si può più essere tolleranti. La tolleranza nei confronti di coloro che non sono tolleranti non è più accettabile. Quindi noi dobbiamo andare su una misura molto rigida rispetto a un Green Pass che viene concesso solamente vaccinati. Ho detto io, ho fatto una proposta per iniziare ad andare in quella direzione a coloro che sono in procinto di farlo. Magari una prenotazione per un Green Pass e un tampone ancora puoi tenere in piedi un Green Pass, ma sono questioni di giorni. Oggi il portale è aperto, si può fare vaccinazioni per le terze dosi, si possono fare ovviamente per le prime e per le seconde, non ci sono più scuse, bisogna andare sui vaccini, altrimenti non c'è alternativa all'obbligatorietà. Ancora possiamo arrivare su questa strada, ma insomma l'inverno incombe e credo che i dati ci dimostrano che il pericolo di un'ulteriore ondata sia veramente evidente. Quindi su questo non possiamo più tollerare una misura leggera e dobbiamo agire con grande fermezza. Governo del territorio, modifiche alla legge regionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'adeguamento normativo al decreto legge 76 del 16 luglio 2020 e alla sentenza 2 del 2021 della Corte Costituzionale che introduce modifiche alla legge regionale sul governo del territorio e alla legge regionale 31 del 2020. Il provvedimento passa con 21 voti a favore di PD Italia Viva, 11 voti di astenzione di Lega e Fratelli d'Italia e 3 voti contrari del Movimento 5 Stelle di Forza Italia. Tra le più significative modifiche introdotte dalla legge è la proroga del piano operativo dei comuni da 3 a 5 anni, una nuova formulazione degli interventi sottoposti al permesso a costruire fra cui gli interventi di ristrutturazione edilizia che è stata ampliata, la possibilità di comprendere anche interventi di aumento di volumetria, il dimezzamento dei tempi di attesa per l'autorizzazione sismica. La modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31, il ricepimento di una norma della Corte Costituzionale e il decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire a cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico, insomma abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di scia o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Per il vicepresidente della Commissione Ambiente, Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, il giudizio sul provvedimento è complessivamente discreto, su come è formulata la norma, abbiamo qualche riserva a detto. Con la proposta di legge numero 59, la regione si adegua al decreto 76-2020 del Governo e si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65-14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza di procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che, grazie al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato, ha reso assolutamente necessario. In più, adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. Sono sette anni che modifichiamo la legge 65 e devo dire che questa volta le modifiche sono veramente sostanziali. Diciamo che viene stravolta perché viene introdotto uno strumento nuovo all'ampliamento delle superfici, ha detto la capogruppo della lega Elisa Montemagni che ha annunciato il voto di astenzione sul provvedimento nel suo complesso. Le modifiche sono interessanti, sono volte a recupero, cosa che noi diciamo da sempre quello che c'è va recuperato anche perché ci sono molte aree che sono degradate in Toscana e va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio della seconda commissione perché quando si parla di agriturismi e c'è una legge in discussione in seconda commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Quindi io credo che ci sia un po' di scollamento nel PD in questo momento perché vediamo che la Giunta presenta le cose e il suo consiglio gli boccia gli articoli e vediamo che le commissioni non parlano tra di loro, quindi un problema politico lo rileviamo rileviamo però che finalmente, come diceva già il centrodestra nel 2014 la legge Marzon, se sono resi conto anche al centro-sinistra, che non poteva funzionare e l'hanno totalmente stravolta. Voto a favore convinto ha annunciato il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli. Una modifica importante a legge Marzon che entra nel merito, c'è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano vanno nella direzione con la quale c'eravamo proposti in campagna elettorale allo stesso tempo nei prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato che eliminerebbe la doppio livello di programmazione non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo ma solamente un unico strumento se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi che era una parte saliente del nostro programma. L'olio protagonista Montespertoli dal 26 al 28 novembre sarà possibile immergersi nelle storie straordinarie di un alimento millenario torna a Olea la terza rassegna dell'olio Evo di Montespertoli degustazioni, incontri e tante aziende del territorio che presenteranno il loro olio una mostra mercato, un convegno, un incontro con i produttori tante le iniziative che arricchiscono la rassegna. La Toscana è terra di bellezza, è terra di cultura ma anche terra di eccellenze no gastronomiche una di queste è l'olio extravergine di Montespertoli è sapere che tante cittadine e tanti cittadini con questo evento che non era scontato fino a qualche mese fa potranno gustarne la prelibatezza potranno conoscere le caratteristiche quelle caratteristiche che richiedono un impegno anche da parte delle istituzioni per fare sempre più che i territori vengano tutelati vengano tutelati le eccellenze no gastronomiche e si investa in salute. Durante tutto il weekend sarà possibile assaggiare e acquistare l'olio dei produttori locali presenti all'evento e degustare caldarroste e vino di Montespertoli a cura della Proloco di Montespertoli Olea Project nasce da un'idea dell'amministrazione comunale assessorata all'agricoltura e turismo del comune di Montespertoli come il primo filone di un progetto più ampio di marketing territoriale per la valorizzazione delle ricchezze del territorio comunale L'importanza di Olea è strategica perché riguarda praticamente la produzione di olio di tutto il comune su cui ci siamo impegnati negli ultimi due anni la cosa importante è che quest'anno torniamo a farla in presenza nel nostro parco urbano che è una bellissima olivete che quindi valorizza il contesto del paesaggio e dell'azienda agricola di Montespertoli La qualità dicono che è molto buona ora noi aspettiamo sempre Olea per fare gli assaggi la quantità è decisamente ridotta rispetto agli altri anni si parla almeno di un quinto dalle prospettive che ci hanno raccontato le nostre aziende aziende facevano anche 15.000 quintali di olio ora ne fanno tre quindi si parla di queste dimensioni qua La federazione organizza insieme al comune di Montespertoli per il secondo anno questa manifestazione l'anno scorso purtroppo per i motivi che tutti conosciamo è andata esclusivamente online con interviste, cooking show, ricette registrate eccetera quest'anno torniamo in forma fisica speriamo in una grande affluenza e come sempre il programma è variegato ci sono attività pratiche quindi si insegnerà ai bambini che cos'è l'olio da dove nasce, dalla pianta fino al prodotto ci saranno delle prove pratiche di potatura e in più degustazioni di olio fatte insieme a Napo e altre attività come cooking show direttamente in forma fisica dove ti potrà assaggiare delle ricette tramite cuochi selezionati da Aero in abbinamento con l'olio delle aziende Montespertolesi Cortona Christmas 2021 il 27 novembre inizia la festa tutto è pronto per vivere Cortona Christmas 2021 feste di Natale lunghe dal 27 novembre al 9 gennaio nella città degli Angeli saranno 40 giorni ricchi di iniziative che coinvolgeranno anche le frazioni di Camuscia Mercatale e Terontola l'inaugurazione si darà sabato 27 novembre in piazza della Repubblica a Cortona alle 16 e 30 e i protagonisti della prima giornata saranno i bambini delle scuole che reciteranno le loro poesie poi si accenderanno le luci per un calendario ricco di eventi e iniziative con mercatini, concerti e spettacoli itineranti tutto arricchito dalla casa di Babbo Natale da una pista per il pattinaggio sul ghiaccio e dalle nevicate artificiali è fondamentale che il Consiglio regionale diventi uno strumento per comunicare positivamente le iniziative felici che nascono dai territori che vedono l'impegno di molte persone e che sono destinati inevitabilmente anche a richiamare persone, turisti vediamo ecco quello che sta succedendo per il Natale a D'Ariezzo ora siamo certi che analogo successo potrà avere sicuramente il Natale a Cortona occorre investire in termini di promozione dei nostri territori il Consiglio regionale lo sta facendo e lo sta facendo in modo opportuno dobbiamo continuare su questa strada che è una strada importante Cortona ha voluto dare un bel segnale di ripartenza nonostante ancora siamo in piena emergenza quindi dal prossimo sabato fino al 9 di gennaio avremo letteralmente ogni giorno su Cortona con iniziative culturali, ludiche, ricreative chiaramente dedicate al Natale quindi è stato un grande sforzo da parte dell'amministrazione ma vogliamo appunto dare un bel segnale anche perché stiamo tentando di allungare la stagione turistica e questo ci è sembrato una bella occasione per farlo organizzata dalla montagna cortonese con il supporto dell'amministrazione comunale, degli sponsor e con la collaborazione di numerose associazioni tutte le attività di Cortona Christmas 2021 si svolgeranno nel piano rispetto delle normative anticontagio la giovane cooperativa montagna cortonese figlia della regione nei progetti di valorizzazione del territorio ha colto la sfida del comune che ha creduto in un programma articolato e ricco che includa la montagna e includa la città e i suoi terreni limitrofi un progetto diretto dove hanno partecipato tutti gli operatori proprio perché credono che si possa ripartire e credono che il Natale sarà un momento di solidarietà e di bellezza per i giovani e per i bambini e per le famiglie Grazie a tutti! Grazie a tutti!